Per portare la solidarietà, per dire che noi sin dall'inizio eravamo contrari all'emendamento Lanzillotta, che indipendentemente dalla fiducia abbiamo chiesto al Partito Democratico, abbiamo chiesto al nuovo centrodestra, abbiamo chiesto al Governo, nella serata anche di ieri, di rivedere le decisioni prese anche in vista del maxi emendamento e in vista della fiducia. Ci avevano detto che sarebbero presi una notte per decidere e questa mattina la mala sorpresa. Qui non si fa speculazione politica, qui si dice ai cittadini e alla gente chi sta da una parte e chi sta dall'altra. Chi ha la proposta pro Uber, mettiamola così, e chi ha la proposta invece pro persone, famiglie, gente che lavora, gente che ha investito i propri soldi. Pensate che il Comune di Firenze, pochi giorni fa, ha fatto un bando per nuove licenze di taxi e le ha fatte pagare 170 mila euro a licenza. Voi pensate, una persona che ha pagato 170 mila euro per la licenza al Comune di Firenze e si trova in mano carta straccia. Grazie chi? Agli amici del Sindaco di Firenze.